Ciao Fragoline, nuovo video! Allora, è un altro tag, però questa volta delle youtubers, allora l'ho inventato io, infatti ho qua il mio fogliettino dove ho scritto le domande, che sono sette domande con otto praticamente il tag. Ho inventato io questo tag, queste domande, perché secondo me è una cosa anche carina, è una cosa bella e curiosa di sapere le risposte anche delle altre persone. Per cui, facciamo questo tag youtubers, che io ho inventato così, non so come mi è venuto in mente. Spero che le domande vi piacciono e spero che almeno le persone che poi taggo lo fanno, perché così questo video, cioè questo video, questo tag rimane tanto su youtube e gira in poche parole su youtube. Però, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina, lasciatemi un like se vi piace questa tipologia di video e seguitemi su instagram che lì siete sempre aggiornati su tutto quello che succede. Allora, praticamente ho inventato tutto, domande, nome, praticamente tutto. Per cui, iniziamo con la prima domanda. Allora, la prima domanda è come mi chiami, come, sì, come mi chiamo, iniziamo bene. Come ti chiami? Allora, ok che l'ho fatto io il tag, però potete dire sia il soprannome che il nome, perché uno non è obbligato a dire il nome. Ad esempio, io il mio nome non lo voglio dire, per semplice fatto che, uno, per privacy. Due, perché è successo che qualcuno mi ha cercato su facebook e non vi dico poi che cosa è successo, ma è successo un puttanaio. Non so se si può dire, però, comunque, dato che non mi piace dire il mio nome, ma non per il fatto che il mio nome è brutto, eccetera, no. Però preferisco dirvi il soprannome, per cui, anche se la domanda l'ho fatta io, ripeto, potete dire anche solo il soprannome e non il nome. Anche solo per, diciamo, un po' di privacy, solo questo vorrei precisare. Per cui, come ti chiami? Ale. Ovviamente Ale ce ne sono tanti, eh. Non è che Ale allora risulta quel nome che tutte le volte le persone mi scrivono. Ma ciao, sei a puntini puntini. E io dico, no, come fai a sapere il mio nome? Non l'ho mai detto e non lo voglio dire, in più, per privacy, per tutto, anche se gli altri l'hanno detto, ma gli altri hanno avuto problemi, poi, con le persone che hanno scoperto dove abiti. Cioè, puoi scoprire tutto su internet. Basta scrivere il nome e sei già il nome e il cognome, primo. E poi, vabbè, tutte le altre cose. Comunque, anche se non c'entra niente, volevo però precisare questa cosa qua. Seconda, il nome del tuo canale. Allora, il nome del mio canale è Fragolina86. Terza domanda. Quanti anni sei su YouTube? Io sono su YouTube da ormai otto anni. Per cui quest'anno ho fatto otto anni. Quarta domanda. Quando hai aperto il canale? E perché? Allora, io ho aperto il canale il 15 luglio 2013. Non me lo ricordavo e allora l'ho scritto su un foglio. Comunque, l'ho aperto il 15 luglio 2013. Perché? Allora, all'inizio guardavo i video degli altri. E dato che ho detto, perché all'inizio YouTube non pagava. Era un divertimento. E allora ho detto, perché non aprirlo anch'io uno e provare a vedere se qualcuno mi caga? In poche parole. Allora ho detto, vabbè, provo ad aprire il canale. Ho aperto un canale, poi ne ho aperti due. Poi, vabbè, sono andata avanti così, no? In teoria, il canale l'avevo aperto quando è apparso YouTube. Cioè, la prima volta che ho visto YouTube e che ho visto una ragazza che stavo facendo i video. Allora, la mia idea era, ho detto, provo anch'io, apro il canale e vediamo. Allora, poi alla fine, all'inizio non mi facevo vedere, facevo video un po' alla cavolo. E comunque adesso... Ok, andiamo avanti perché si è interrotta la registrazione. Non so che cosa gli prende a questo cellulare. Comunque, detto questo, andiamo avanti con la quinta. Segreti e consigli per essere YouTubers. Allora, il mio consiglio, come ho detto nell'altro video, non pensare a quanto YouTube paga e a prendere i soldi. Perché ha detto che adesso hanno iniziato a attivare la monetizzazione. Ovviamente molte persone pensano solo ai soldi e non al divertimento. Per cui pensate a divertirvi, pensate che fare video è una passione, un divertimento, un hobby. Per cui non pensate che YouTube vi paga chissà quanto. Perché alla fine, per far sì che YouTube vi paga tanto, dovete avere tantissimi iscritti, tantissime visualizzazioni. Almeno un milione. Come una ragazza che seguo io, che praticamente guadagna uno stipendio come se vai a lavorare. Per cui pensate solo a divertirvi, non pensate ai soldi, eccetera. Perché non riuscite poi a essere, diciamo... Cioè, dovete essere praticamente voi stessi, in poche parole. Fare i video come faccio io. Che non sono falsa e tantomeno non faccio sponsorizzazioni, collaborazioni, non faccio niente di tutto questo. Perché preferisco essere vera come persona che è falsa. Come sponsorizzare i prodotti che poi alla fine non piacciono. Questo è un esempio. Per cui, segreti... Il mio segreto è fare video che piacciono anche le persone. Se tu vedi le visualizzazioni che sono di più su quel video, allora devi fare quel tipo di genere di video. Se vedi che il video che hai fatto, che piace a te, ma non piace agli altri e hai meno di visualizzazioni, secondo me è meglio lasciar perdere. Per cui è meglio... Io di solito faccio così. Ad esempio, vedo che sui vlog abbastanza lunghi piacciono a molte persone. Per cui io preferirei fare i video vlog che piacciono a molte persone, che ho un po' di visualizzazione, che fare, che ne so, video parlati che a nessuno piacciono, per farvi capire. Sesta domanda. Youtuber è un lavoro o un hobby per te? Allora, tutte e due. All'inizio era un hobby, era un divertimento, era praticamente... Mi divertivo a fare i video. Adesso si è trasformato anche con un piccolo lavoro. Dico piccolo lavoro perché YouTube non mi mantiene. Se no io quest'ora non andavo a lavorare e facevo 11 ore di lavoro al giorno, per farvi capire. Per cui... Infatti faccio fatica anche a registrare, a montare i video in questi mesi, perché giustamente avendo trovato un lavoro nuovo, mi permette di fare 10-11 ore al giorno e ovviamente è difficile avere tempo qui a YouTube. Però i due giorni che sono a casa, giustamente poi registro molto. Per cui diciamo che per me è tutte e due. Io lo faccio per tutte e due. Ovviamente, dato che YouTube non è un pagamento come uno stipendio, per me io preferisco di più dire hobby, perché è un divertimento, mi piace fare i video, mi piace registrare, mi piace montare. Se non mi piaceva tutto questo, giustamente i video non li facevo. Anche perché, calcolando, il guadagno che faccio su YouTube è zero. Per cui, cioè, non è che a quest'ora io avevo già chiuso il canale, cioè non facevo neanche più video, se pensavo solo a quello che guadagnavo su YouTube. Per cui io preferisco dire hobby. Sette. Hai litigato con qualche YouTubers? Allora, io non ho litigato con nessuno. E no, non ho litigato con YouTubers, o almeno. Non lo so che cosa gli prenda questo telefono. Ogni volta si chiude la clip e devo rifare tutte le volte. Per cui non lo so. Meglio stringere, meglio fare veloce questo video, perché giuro che spacco veramente il telefono, perché mi sta facendo già puntini in puntini. Per cui, scusate, ma non so che cosa gli prendo sto telefono, ma vabbè, andiamo avanti. Comunque no, non ho litigato con nessuno e non credo che sono una persona che litiga con le persone. Per cui la mia risposta è no. La otto è tag a cinque persone. Ho, diciamo, messo cinque persone, perché secondo me, dato che molti tag mettono sempre tre persone, secondo me tre persone era poco, allora ho detto metto cinque persone, per cui taghiamo cinque persone. Allora, non mi ricordo i nomi a memoria, però, vabbè, taggo. Se lo volete fare, a me fa piacere, così almeno, diciamo, questo tag va un po' sparso per YouTube e spero che lo fanno tantissime persone. Allora, Betty82. Spero di non sbagliare tutti i nomi del canale, perché se no, Massimo me lo scrivo qua sotto. Betty82. Ricette risate in pochi minuti. Saramagic15. LorenzoAzMiei. Per cui se lo vuoi fare, mi fa molto piacere, se per caso fai questo tag. Poi, mi manca l'ultima persona. Facciamo Ilaria94. Per cui sono cinque persone che ho taggato e ovviamente taggo anche tutti, tutti quelli che hanno visto questo video. Se volete farlo, a me fa veramente piacere che questo tag diventa, diciamo, appunto, che si sparge in tutta YouTube, perché, dato che vedo molte persone che l'hanno inventato, che hanno fatto tanti tag, se anche questo tag che ho inventato io con queste domande, cioè, un tag che piace e anche le domande mi piacciono e diventa, diciamo, non dico famoso questo tag, ma almeno un tag come tutti gli altri, come hanno fatto praticamente tutti gli altri. Tutto qua. Per cui io spero che fate questo tag, spero che vi piace e spero che lo fate in tanti. Mi raccomando, se non fate questo tag, o taggatemi su Instagram, oppure, mi raccomando, scrivetemi qua sotto le vostre risposte, che tanto leggo tutti. e se per caso fate questo tag, mi raccomando taggatemi, perché ci tengo tanto e poi, non so quante volte lo devo dire, dato che è stato difficile inventarlo, è stato difficile inventare il titolo, perché ci ho pensato tante volte, Allora, questo tag, praticamente, l'ho fatto tre anni fa, l'ho inventato tre anni fa, perché il primo anno c'è stato il coronavirus e giustamente non l'ho registrato. Secondo anno ho avuto altri video da fare e allora ho detto, vabbè, aspettiamo. Adesso che ho avuto, cioè, ho detto, lo faccio, allora, lo sto registrando adesso, però questo tag è da tre anni, che ancora non l'ho registrato e finalmente ho deciso di registrarlo. Fatemi sapere se vi è piaciuto, fatemi sapere se volete altri tag diversi, tag inventati, o specialmente da me, che a me, secondo me è carino inventare qualche tag. E fatelo anche voi, perché secondo me è molto carino, molto bello. Detto questo, spero che non mi si chiude di nuovo la clip, perché sennò lo butto dalla finestra, su cellulare. Io vi saluto, che è meglio. perché non so neanche quanto è durato, dato che mi ha fatto fare 50.000 clip e ormai il cellulare è KO. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!